Sono 25 i nuovi casi di positività al covid-19, di età compresa tra 1 e 84 anni, registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Sono complessivamente 3.853 i casi di positività al coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.910 dimessi guariti, più 8 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.895 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 471, più 17 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 162.483 test. 32 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 438, più 18 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 481 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 20 rispetto a ieri, 920 in provincia di Chieti, più uno, 1.704 in provincia di Pescara, più quattro, 715 in provincia di Teramo, più uno, 31 fuori regione, dato invariato, e due per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E si precisa che dei 25 casi registrati oggi in Abruzzo, 23 fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai, o casi singoli, già noti. Estendendo l'analisi ad una settimana fa, rispetto al 28 di agosto, si registra un aumento di 128 unità del numero dei nuovi contagi da coronavirus, a fronte di un aumento di 40 unità di dimessi guariti. Nessun è decesso, così che il dato resta fermo appunto a 472. Il numero degli attualmente positivi sale di 88, quello dei positivi in isolamento domiciliare ha un aumento di 95. Stabile è il singolo caso di paziente ricoverato in terapia intensiva, mentre quelli non in terapia intensiva sono scesi di 7. Circa la distribuzione dei nuovi casi nelle province, impennata in quell'aquilana, che ha i principali focolai, con un più 93. Seguono Pescara, più 18, Chieti, più 15 e Teramo, più 5.